Una rapina a tre giovani e nella stessa notte un tentato furto ad un bar cercando di spaccare la vetrina con un tombino. Quattro gli arresti da parte della polizia di Padova è successo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando durante un controllo nelle zone della Movida gli agenti venivano fermati da tre giovani che riferivano di essere stati rapinati mentre stavano passando la serata al portello. Lungo il ponte che collega via Loredang e via Trieste avevano incrociato un gruppo di giovani stranieri che con in mano un coltello gli rubava i telefoni cellulari. Raccolta la descrizione dei rapinatori i poliziotti si sono messi sulle loro tracce notando in via Belzone due nordafricani che corrispondevano all'identikit. I due alla vista della volante hanno cambiato direzione insospettendo gli uomini della questura che sono riusciti a fermarli e a ritrovare poco distante l'area furtiva. Identificati sono risultati essere un 21enne e un 26enne di origine tunisina senza fissa dimora in Italia. Un altro equipaggio delle volanti intanto interveniva in via Valeri per una segnalazione giunta al 113 di una spaccata ad un bar. Sul posto hanno trovato una porta sfondata con un tombino. Dentro c'erano ancora i ladri, un 18enne e un 21enne marocchini che sono risultati corrispondere alla descrizione dei rapinatori del portello. Anche loro sono stati arrestati e come gli altri due complici sono stati portati al carcere di Padova.